Anna, so che stai organizzando anche una charity, sempre sociale per la Croce Rossa. Sì, cerchiamo di ripartire Donora, perché questo Green Pass, tu sai l'anno scorso, quest'evento lo facciamo a 13 anni durante la festa del Cine di Roma. Sì, con Teleton, certo. Sì, con Teleton e quest'anno, vista l'emergenza che abbiamo vissuto tutti, della pandemia, abbiamo deciso di, in un accordo con Teleton, di devolvere tutto il ricavato della serata alla Croce Rossa. Chiaramente, essendo sempre in prima linea, è stata molto in prima linea la Croce Rossa per tutto quello che ha riguardato la pandemia, quindi stasera ci sarà una presentazione di un nuovo pulmino di contenimento che verrà inaugurato anche dalla duchessa Sara Ferguson che sta arrivando appositamente da Londra, che lei aiuta anche la Croce Rossa internazionale, quindi ci saranno tantissime donne. Vogliamo che le donne sono solidali con queste iniziative, come Fanny Ardant, che sarà l'ambasciatrice della serata, e tantissime anche attrici italiane saranno presenti per sostenere la Croce Rossa. E il lavoro dei volontari, avremo tanti volontari alla serata, avremo tutti coloro che, insomma, tutti i giorni sono in prima linea. In questo momento, chiaramente molto per la pandemia, e quindi noi speriamo che questo evento sia un po' di ripartenza, perché l'anno scorso ce l'hanno chiuso a tre giorni prima di farlo, se ti ricordi, con DPCM che chiuse tutti gli eventi, quindi noi speriamo che da questo se ne possano poi fare altri, che anche possiamo cominciare di nuovo a fare iniziative di sensibilizzazione sociali anche a favore di altre iniziative, perché ricordiamoci che anche le iniziative a favore di altre associazioni sono state bloccate dal Covid, quindi forse prima si faceva di più, io ho inaugurato tantissimi centri antivellenza per le donne. L'appuntamento è con la Croce Rossa? Con la Croce Rossa, e quindi speriamo che questo sia l'appuntamento che insieme a tanti artisti che hanno aiutato anche durante il lockdown, di Raul Bova, che portava alcuni viveri alle famiglie che non potevano muoversi, e tantissimi altri ospiti come Remo Girone, come veramente il volo che saranno con la loro musica a sostenere la Croce Rossa, Tosca, che è una cantante meravigliosa. Allora, l'appuntamento con questo charity evento è con Tiziana Rocca e con tanti amici che poi questa sera verranno premiati, ma soprattutto al centro ci sarà la Croce Rossa, perché chiaramente c'è bisogno di aiuto. Grazie. Grazie a voi. Grazie Tiziana di essere stata con noi, e noi allora ci vediamo domani con Storie Italiane, vi aspetto e grazie sempre per esserci accanto. E noi, lo sapete, siamo sempre dalla vostra parte. A domani.